Musica Bello guardare il futuro, bello anche riscoprire gli antichi piaceri, per esempio un buon libro e un buon piatto. Il sapore dei saperi è il titolo dell'evento organizzato a Torre di Nebbia sulla Murgia Barese. Michele Peragene Un tempo utilizzata come area per le esercitazioni militari, Torre di Nebbia nel territorio di Corato, a breve distanza da Castel del Monte, è rinata grazie ad un accurato lavoro di recupero dell'omonima masseria, qualificato presidio di accoglienza turistica, ma sempre di più anche sede di attività culturali. L'ultima della serie, il sapore dei saperi, percorsi letterari con gusto, iniziativa della provincia di Bari per valorizzare la letteratura di casa nostra, scegliendo luoghi rappresentativi del territorio e realizzando degustazioni di prodotti della gastronomia tipica. La provincia di Bari in questo momento vuole assolutamente rivalutare quelle che sono le specifiche potenzialità del nostro territorio, tra cui gli editori e gli autori del nostro territorio, le eccellenze intese anche come prodotti del nostro territorio e poi non da ultimo sicuramente le masserie fortificate della nostra terra che comunque costituiscono un valore aggiunto sia da un punto di vista turistico sia da un punto di vista assolutamente culturale. E c'è stata importante partecipazione di scrittori, critici, editori, appassionati all'incontro con le cinque autrici Sabrina Merolla, Vittoria Coppola, Carmela Formicola, Ada Bagnato Ranieri, Gabriella Genisi, valenti protagoniste di una vivace produzione letteraria, incontro che ha favorito lo scambio di esperienze e approfondimenti di vario tipo, il ricordo delle esplosioni di bombe e delle cannonate ormai lontano, la murgia di Torre di Nebbia rivive ora grazie a turismo e cultura.